E' il 9 di giugno, fa caldo, noi siamo qua comunque sempre pronti per leggervi i giornali, i giornali che tutte le mattine trovate nella vostra edicola di fiducia. E noi invece questa mattina come sempre li abbiamo qui nel nostro touchscreen che tra poco andremo a sfogliare insieme. Oggi la chiesa ricorda un diacono, Sant'Efrem, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.49. Allora il tempo per oggi, intanto godiamoci il sole di questa mattinata con il caldo, sono 22 gradi alle 7.30 del mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi sui rilievi, durante le ore centrali sono possibili rovesci e temporali sulle zone alto, collinarie e montane, le temperature senza variazione di rilievo. Per domani, mercoledì 10 giugno, costa inondata di sole, avremo cielo sereno o poco nuvoloso con temperature stazionarie. Per giovedì 11 di giugno lo stesso, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature e lieve aumento nei valori massimi, avremo condizioni di sole e tempo stabile per tutto il resto della settimana. La cronaca, il resto del Carlino, donne violenza, pugni in strada, arrestato uno stalker, drammatici momenti l'altra sera in violenza a Pesaro, un 35enne, blocca l'auto della sua ex fidanzata. A dare l'allarme è stato un passante, una passante, una donna a sua volta aggredita dal persecutore. C'erano state altre denunce, questi sono i suoi precedenti, nei mesi scorsi contro l'uomo per le violenze sulla sua ex compagna, ma nessuna di queste aveva portato alla emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ora invece l'uomo è in cella con accuse pesanti. Il piccolo Edoardo non ce l'ha fatta, è morto infatti il bambino di 20 mesi colpito da edema polmonare la settimana scorsa. È un bambino di un anno e otto mesi, figlio dell'avvocato Nicola Baiocchi, noto anche per essersi candidato alle recenti elezioni regionali e dell'avvocatessa Giada Ronchi di Pesaro. Il piccolo era stato soccorso martedì scorso dopo aver improvvisamente accusato un malore, ma purtroppo la patologia che ha colpito il piccolo Edoardo è apparsa subito grave con poche speranze e purtroppo come dicevamo non ce l'ha fatta ed è morto. A Serra Sant'Abbondio invece un olandese di 58 anni, un turista, si uccide in auto scrivendo un sms al fratello. È stato trovato l'altra sera senza vita, si è ucciso, su questo non ci sono dubbi, per farla finita ha scelto Serra Sant'Abbondio, si è chiuso in macchina, ha ingerito dei barbiturici e poi ha scritto dei messaggini telefonici al fratello. Andiamo avanti sulla pagina di Fano, invece la danza fa il suo ingresso a teatro, soluzione alternativa alla chiusura del palco della corte malatestiana, dunque la quadratura del cerchio arriva in punta di piedi, spettacoli estivi, scuole di danza, corte malatestiana, teatro della fortuna e Sant'Arcangelo sono tutti anelli di una stessa catena chiusa dal lucchetto della fondazione teatro. La politica, ho detto no a Berlusconi in nome dell'unità, parla l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi che invita i suoi ex alleati a lavorare insieme e ad essere più umili e dice l'ex sindaco se nel 2010 avesse accettato la candidatura in regione avremmo fatto la fine di oggi. In questo articolo Stefano Guzzi a parole dice di non voler fare polemiche, di fatto torna ad analizzare la sconfitta elettorale e a dispensare qualche consiglio, soprattutto ricorda che è stato il garante dell'unità del centrodestra per dieci anni, sia per le sue capacità personali, sia per aver rifiutato nel 2010 la candidatura a presidente della regione Marche che gli era stata offerta personalmente da Berlusconi. Ancora dal resto del Carlino si parla di fondazione Carifano, serve una nuova gestione bene comune all'attacco dopo le modifiche statutarie. Due mandati per il presidente, dicono le apette, patrimonio ridotto dai 161 milioni del 2012 ai 138 dello scorso anno. In 10 mila invece per le fragole e i fagiani al Parco del Fenile sono tante, le persone in quattro giorni di festa, la festa del fagiano e della fragola è stata inaugurata dalla tabola rotonda olivicoltura e territorio e poi c'è stato il torneo di Burraco e quant'altro, insomma comunque questo per dirvi che è andata molto bene. A Fossombrone invece rave party ma che solo musica e allegria lo dice e lo assicura il vice sindaco di Fossombrone, Chiarabilli, che dice ancora era tutto regolare dopo le polemiche per il raduno di Montalto Tarugo. Il vice sindaco informa che tutte le forze dell'ordine erano state avvisate. Andiamo sul Corriere Adriatico, telecamere, rotatorie e sponsorizzazioni. Siamo a Pesaro, l'assessore delle Noci sblocca risorse dalla bilancio, nuovo impianto di climatizzazione a Santa Colomba. In cantiere anche due nuove piste ciclabili previste in via Milano e in via della Repubblica. Arriva la notte magica dei bambini con Ambra Doré dalle 18 alle 24, oltre 120 appuntamenti dislocati in 33 postazioni. È possibile farsi guidare dalle mappe che saranno disponibili al punto informativo in piazza. A Fano invece, nuovo fondazione con tombari persi 10 milioni. Bene comune accusa, missione istituzionale disattesa, svalutazioni e perdite sui fondi di investimento. In pratica azzerata la rivalutazione del patrimonio conseguita nei 12 anni della gestione Valentini, in un decennio ridotti gli avanzi di amministrazione e dimezzate le erogazioni per scopi sociali nel territorio. Nuovo limite di 8 anni per il Presidente, ma saranno 15. L'antica basilica non si trova. Venerdì presentazione di Archeoclub Fano, Vitruvio, sulle ricerche svolte. Palloncini lanciati in aria per dire no alla guerra, nell'anniversario del primo conflitto mondiale. Il flash mob è stato eseguito dalla biciclettata organizzata dall'Africa Chiama per invitare alla pace. Poi la cronaca con lo scontro alla rotatoria, grave un motociclista, ferito un fanese di 66 anni, che è ricoverato a Santa Croce in prognosi riservata, mentre a Rosciano di Fano, schianto, donna resta incastrata. Una donna di 75 anni, protagonista di un incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada Cimitero di Rosciano. Ecco il degrado del PD, facciano il giro, Santorelli, ex assessore, ironizza su fumante fanese, segnalando il tendone strappato. Lo vedete in questa fotografia. Poi da Mondolfo, i democratici hanno perso mille elettori, soddisfatto il Movimento 5 Stelle nel 2016. Il sorpasso sarà possibile, mentre a Serongarina via al completamento della palestra. La Giunta Comunale ha approvato lo stanziamento di 50 mila euro. A Orciano invece, nuova pavimentazione al Castello di Montebello. Un delicato intervento costato 166 mila euro. Dalla pagina di Senigallia invece i grandi eventi sono indispensabili. Gli operatori turistici sono fiduciosi, ma la crisi si fa ancora sentire. Apriamo adesso invece il messaggero. Si spacciava per consulente intascandosi le tasse dei clienti. Un ragioniere patteggia un anno e due mesi per esercizio abusivo. Poi il dente avvelenato di Oriano Giovanelli del Partito Democratico, almeno credo che sia ancora del Partito Democratico, visto che sta sparando continuamente contro il suo partito. Ceriscioli ha vinto perché l'acqua dove si nuotava era bassa. Giovanelli critico con il centro-sinistra sul suo blog. Governatore eletto solo con il 20% degli aventi diritto. Poi, a proposito di Ceriscioli, la Giunta resta il rebus rosa per il terzo assessore. Catraro ribadisce, un socialista rappresenti uniti per le marche. Marconi nomina esterna per l'Udc, ma niente preclusioni. Andiamo avanti. Sui profughi al lavoro, la gente apprezza e il progetto si amplia. Passeranno da 10 a 40 gli stranieri impiegati in piccole opere di manutenzione e i cittadini scendono in strada con acqua e caffè. Positiva, infatti, l'esperienza partita a Muraglia è vera integrazione. Alcuni potrebbero correre il palio con i ragazzi del posto. Il palio che si sta organizzando a peso, penso che si riferisca al palio dei Braceri. E mentre alcuni si godono addirittura il caffè in strada, ringraziati dai residenti, altri invece vengono segnalati dal commissariato di Urbino. Sono i parcheggiatori abusivi, questi simpatici omini che ti vengono vicino a chiedere il soldino e che se tu non gli dai poi ti trovi con la macchina rigata, spesso e volentieri, o comunque con i piccoli danni. Ma adesso non voglio essere polemico perché poi dopo si fa presto a scadere in commenti poco consoni. Allora, però, un plauso sicuramente al commissariato di Urbino che ha deciso di sanzionare questi due uomini di 41 e 33 anni, in regola con il permesso di soggiorno, residenti a Sant'Angelo in Lizzo e le Valle Foglia, e li hanno senzionati perché, sentite un po', esercitavano abusivamente l'attività di parcheggiatori. Bene, nel parcheggio dell'ospedale. Ottimo. E quindi tutti gli altri, vediamo adesso se qualcun altro farà la stessa cosa. Mi riferisco quindi a tutti i parcheggiatori che svolgono attività abusiva di parcheggiatore a Fano e ce ne sono una marea, così come a Pesaro. Mai più ruspe in spiaggia nel mese di giugno. Rimosso il mezzo impantanato alla foce del Genica, sfruttando anche la bassa marea che c'era ieri mattina. Oliva, che è il presidente degli albergatori, chiederemo un incontro al neogovernatore Ceriscioli per trovare una soluzione. Abusivismo, torno alla battaglia d'estate. Forza dell'Ordine e Prefettura annunciano una linea dura, prevenzione ma anche repressione. Poi, la notte rosa accende Borghi e Castelli a Tavuglia, si sgasa. Ovviamente Tavuglia è il paese di Valentino Rossi e quindi punta sui motori. Ci sarà un concerto all'alba a Fiorenzuola, show poco invadenti invece sul monte di San Bartolo. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con la pagina di Fano del Messaggero e anche qui c'è in primissima pagina la crociata di bene comune contro Tombari. Io non è che devo difendere Tombari, Tombari si difende da solo, a me quello che fa Tombari non mi interessa. Però, ecco, un ignorante come me direbbe perché adesso tutto questo, ogni tanto si torna fuori con questo assalto alla diligenza guidata da Tombari. Come mai questa crociata, termine non a caso, contro Tombari, non è che la crociata è voluta da qualcuno? No, faccio la domanda, non è che è una domanda legittima. Bene comune, sferra l'attacco, scrive il messaggero, bene comune, ispirazione cattolica. Almeno così si presentavano. Sferra l'attacco, manovre sbagliate non soltanto per l'acquisto di azioni di banca Marche. Nel mirino finiscono le svalutazioni legate a due diverse operazioni, ma il Presidente replica l'operato dell'ente di assoluta trasparenza. Il movimento spinge anche sulla necessità di un ricambio dopo oltre dieci anni. E poi sotto l'incidente il nipote che soccorre la nonna, la pensionata è stata ricoverata in prognosi riservata, altro ferito grave invece in motocicletta. Avanti con la battaglia per bloccare invece i sottopassi a Marotta. Il Comune di Mondolfo non ha voluto ascoltarci, dicono, ma noi non ci fermiamo e anzi ci aspettiamo che il Tar ci darà ragione. Il Presidente di Attraverso Marotta, Eneo Petroni, non ci sta e alla prima cena di autofinanziamento ha annunciato che si percorreranno tutte le vie legali possibili per non far partire i lavori dei nuovi sottopassi in via Ariosto e in via Foscolo la battaglia dei sottopassi a Marotta. Ok, e con questo chiediamo qui la nostra segna stampa. Grazie per averci seguito, a voi tutti auguro una buona giornata. Grazie per aver guardato il video.